Allora siamo con Roberto Satti, membro della Commissione regionale, chiediamo a lui un riassunto su tutto l'andamento del campionato regionale di quest'anno. Il campionato regionale non può che partire dalla massima soddisfazione che abbiamo avuto come Comitato di Valle Camonica di averlo riportato in valle. La Polisportiva Oratorio Piancamuno quest'anno si è giudicata e oserei dire proprio senza rivali il campionato regionale, in più abbiamo portato sempre in valle alcuni campioni regionali nelle varie categorie. Il campionato si è svolto regolarmente, le solite tre prove dalla zona B e zona A e le solite tre prove, la prova finale in sede unica in quel di Abbadia L'Ariana dove poi c'è stata la premiazione finale. A questo proposito le soggettà sportive della valle chiediamo se sa qualcosa sul riguardo al numero delle persone e le soggettà che andranno al prossimo nazionale. Sì, il campionato nazionale è in programma a Messina dal 19 al 22 di aprile. Le società valligiane, quelle maggiormente rappresentative del nostro campionato, del nostro movimento, parteciperanno tutte, dal Polisportivo Oratorio Piancamuno, Grattacasolo, Breno e Erogno. Avremo una buona partecipazione di atleti sia dal punto di vista numerico ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Speriamo di poter portare a casa anche da là diverse soddisfazioni. Sicuramente il contesto è un po' più difficile e sicuramente le partite un po' più combattute. E infine veniamo al nostro provinciale, questa sera stiamo disponendo la penultima prova qui al Palazzetto di Erogno. Tu che sei responsabile dei vari gironi, dici i numeri e soprattutto se ci sono novità in vista della finale. I numeri sono esplosi ulteriormente, un po' la battaglia per il primo posto di società tra l'Oratorio Piancamuno e la Polisportiva Grattacasolo ha portato a un ulteriore incremento delle iscrizioni. Tanto è vero che questa sera abbiamo abbondantemente superato i 100 nonostante alcune defezioni di atleti che hanno partecipato a tutte le prove. Per quanto riguarda le novità, c'è una novità di rilievo che è importante sottolineare, che la prova finale è stata anticipata al 5 maggio anziché al 19 come in programma. Questo per delle esigenze delle varie società si è trovato di comune accordo la data del 5 come prova finale. Prova valida a tutti gli effetti per il campionato e a seguire ci saranno poi le premiazioni con i campioni zonali. Prova valida a tutti gli effetti per il campionato e a seguire ci saranno poi le premiazioni con i campionati.